Stavo guardando se sono rimaste tracce di trucco, se mi sono rimasti i segni del video di oggi, della mia ambiguità, della mia parte folle che è emersa nel video di oggi, la parte folle, è la parte razionale, la parte libera, è la parte trattenuta, contenuta, che deve spiegare e razionalizzare, la parte semplice, ingenua, fragile, infantile, è la parte razionale, matura, calcolante, calcolante, semplice e complesso, ma anche quando si parla di semplice in realtà le cose non sono sempre così semplici, a me viene sempre da distinguere quello che è semplice, bello, semplice perché naturale, perché privo di qualsiasi altro spello, perché non si capisce così com'è, si presenta, si mostra per quello che è, da quello che è semplicistico, che è apparentemente semplice, ma che è banale e quindi spesso è stupido e quindi spesso anche non autentico, che non dà l'idea di quello che vorrebbe rappresentare, insomma, è distante dal significato, diciamo, profondo di quello che dovrebbe suggerire anche una cosa semplice. Una cosa semplice può dare emozioni perché è semplice e quindi perché si capisce subito, perché sa estrapolare da una realtà complessa una chiave di lettura che ti dà accesso alla realtà e che quindi proprio perché è semplice la capisci, è qualcosa che invece è superficiale e magari rischia di confonderti. E allora la musica mi aiuta in questa cosa qua, mi aiuta la forma, la forma anche in musica, il discorso non è più facile in musica, insomma, no? Pensando alle forme musicali e soprattutto pensando a tre forme musicali in cui la parte semplice in qualche modo viene elaborata, la parte semplicistica che potrebbe essere all'inizio o sembrare all'inizio viene elaborata e alla fine ritorna come autentica semplicità. E queste tre forme sono la fuga, sono l'aria con variazioni e poi l'aria con l'altra forma, la forma sonata, insomma. Sono forme che appartengono soprattutto alla musica del periodo barocco, classico, insomma, no? Che poi con il romanticismo in qualche modo vengono con questa liberazione della soggettività, dell'irrazionalità, vengono del bisogno dell'io di esprimersi in modo anche esuberante, vengono in qualche modo superate, ma spesso tendono poi a riemergere, a rifiorare ogni tanto, soprattutto in certi autori. Il tema, il tema della fuga, quando è esposto all'inizio, spesso è un semplice motivo, è una cosa che non... se si messe lì, buttato lì, no? Come questo tema. Sarebbe una cosa che potrebbe anche sembrare banale. Il tema dell'aria con variazioni. È spesso un temino, è una cosa messa lì, quei temi anche orecchiabili di aria che si sentivano, così. A volte è anche un tema popolare, è un tema... ma insomma è un temino che si potrebbe... che ognuno potrebbe canticchiare che non dice niente. Oppure il tema nella forma suonata, insomma, no? Già acquista una sua dignità maggiore, ma nella forma suonata la cosa è ancora più complicata perché spesso, soprattutto in Beethoven, poi i temi diventano... diventano due. Uno magari più energico, più maschile, più presente, più importante e l'altro magari più sottile, più insinuante, più femminile, insomma, no? E si presentano uno dopo l'altro, no? Prima il primo tema, poi il secondo tema e poi questi due temi tendono un pochino a dialogare tra loro, un po' a intrecciarsi. Questo intreccio all'inizio, nella prima parte, è un modo di comunicare quasi agile, quasi sottile, così, insomma, no? Dialogo tra amici. Poi però, nella ripresa, insomma, c'è... c'è una parte che è lo sviluppo, insomma, di questa forma suonata in cui questi due temi, in realtà, o frammenti di essi, o parti di essi, insomma, vengono fuori, cambiano, si muovono, litigano, besticciano, insomma, c'è un grosso conflitto, c'è un grosso entrare in una... in un meccanismo per cui quasi diventano irriconoscibili, si trasformano, insomma, si capisce che qualcosa li muove, che un tormento li anima, insomma, che fanno un percorso in cui devono ricercarsi, insomma, devono capire, in realtà, chi veramente sono, cosa sono, cosa rappresentano, insomma, e poi, pian piano, insomma, da questa... da questo scavo, da questa lotta, insomma, da questa... che a volte può essere una cosa molto... anche molto lunga, molto compresa, una parte importante, insomma, del primo tempo di una suonata, di solito, nelle suonate precedenti, invece, era anche un episodio abbastanza breve, perché le suonate erano anche più... più contenute, meno... meno complesse. Parlo di Haydn, o addirittura delle suonate precedenti, di Scarlatti. Ma, a un certo punto, a questa situazione, poi, dopo questo tortuoso, tormentato percorso, ma proprio perché tormentato molto interessante, i temi riaffiorano e si ripresentano, si ripresentano quasi uguali a come erano all'inizio, ma noi non li percepiamo più così uguali a come li abbiamo sentiti prima, perché nella nostra memoria, e anche in tutto quello che è successo nel frattempo, questi temi sono diventati altro. ritorno alla semplicità dopo il terremoto dello sviluppo, ma questo terremoto, in qualche modo, ha un suo motivo di essere, perché poi, quando questi temi ritorno li conosciamo, hanno una vita propria, vivono in una nostra memoria che ha perduto l'ingenuità iniziale, ha sperimentato un percorso, un tormento che assomiglia a quello che poi si sperimenta nella vita, insomma, nell'esperienza che la vita ti porta a fare, e poi finalmente, allora sì, si ritorna a una semplicità, e la semplicità di chi prima è andato all'inferno, di chi prima è sceso, di chi è stato costretto a confrontarsi con la complessità del reale. solo dopo questo confronto, questo tormento, è ritornato, o può capire effettivamente, può apprezzare, può mostrare un animo semplice, un'idea semplice, una frase semplice, come nella musica, cioè può riacquistare una vera semplicità, che all'inizio non era, sembrava, ma non era, era, poteva essere ingenuità, mancava ancora dell'esperienza, del dato acquisito del confronto con il reale, della dinamica che emerge nella lotta, nel confronto con l'altro, e non solo con l'altro, ma anche con l'insieme, con il mondo nel suo complesso, o con quello che fa mondo, nell'area con variazioni, anche lì spesso abbiamo questo temino, e questo temino però, come dire, non entra in conflitto con altri temi, non c'è un secondo tema come nella forma suonata, elaborata. Questo tema viene sempre riproposto, viene riproposto in maniera sempre diversa, sempre con nuovi elementi, sempre con variazioni che possono essere ritmiche, armoniche, melodiche, diminuzioni, insomma, abbellimenti, tantissime cose che compongono poi il bagaglio delle varie composizioni, insomma, in cui certi autori si esprimono in un certo modo, differenti, insomma, si riconosce un po' lo stile dell'autore, insomma, anche il tema nella sua semplicità, nella sua linearità iniziale suggerisce, anche questo può essere un lavoro lungo, un percorso, il tema si trasforma quasi completamente, a volte diventa quasi impossibile riconoscerlo, richiede uno sforzo, lo si riconosce sempre con attenzione, ma non è così facile, anche qui un percorso, insomma, come cambiamo, come ci cambiamo, a secondo di ogni esperienza che si vive, insomma, come ci modifica nella struttura, nel profondo ogni esperienza, quante trasformazioni viviamo. E alla fine, però, anche in questo caso, dopo tutta questa serie di trasformazioni, il tema iniziale ritorna e anche qui, quando lo risentiamo nella sua veste semplice iniziale, non è più quello ingenuo dell'inizio, è già un'altra cosa, anche questo ha fatto un percorso, un cammino diverso da quello della forma sonata, ma ha avuto bisogno anche in questo caso di scendere, di approfondare, per poi risalire, in qualche modo uguale, ma diverso, rinnovato. E allora sì, veramente semplice. Una semplicità che ha capito qualcosa, o tutto, molto, della vita, la fuga. Invece nella fuga c'è lo stesso tema, non c'è lo stesso tema che nello stesso momento entra in scena. C'è un tema che si divide in più parti. Insomma, ci sono più voci, si chiamano, che cantano la stessa canzone, ma cantano la stessa canzone, la stessa melodia, cominciandola in momenti diversi. E poi nei momenti successivi in cui entrano queste voci, e quindi all'inizio la prima voce che annuncia questo tema è una voce che annuncia un tema, una melodia che può essere anche semplice, anche molto banale, insomma, anche in questo caso. Melodia sempre. Però poi il fatto che la seconda voce riproponga la stessa melodia su un altro livello. E la terza poi entri dopo riproponendo anche questa melodia in un livello ancora diverso. Fa sì che queste melodie si fondono, creano armonie diverse. Poi ci sono giochi all'interno della fuga. Anche qui tutto un percorso, un percorso in cui si sente ovviamente la mano dell'autore, insomma, diverso a secondo del tema, del carattere del tema, triste, allegro, complesso, diciamo un tema melodico, oppure un tema molto cromatico, molto denso di... Ecco, però sviluppo anche qua, insomma, no? Episodi vari. E poi la fuga anche qua finisce in genere con la riproposizione magari in maniera più stretta di questi temi che riusciamo a riconoscerli, no? E noi riusciamo a sentire durante la fuga sempre questi temi che entrano, riconoscere i singoli elementi. Però in tutto il percorso della composizione questi temi sempre, come dire, offrono armonie nuove, spunti nuovi, insomma, si modificano, si scavano, si contorcono, a volte anche giocano allegramente, insomma. E poi alla fine, anche qua, quando hanno dato tutto della loro possibile, ritornano alla semplicità iniziale e la cosa finisce. La semplicità non è mai ingenuità, se usiamo questa metafora musicale, insomma, per capirla. L'ingenuità iniziale, spesso così che apprezziamo, che diciamo, no, ma che bello, perché è semplice, puro, insomma, non ha conosciuto. E quella è una semplicità che rimane lì, che può essere attraente da un certo punto di vista, ma che manca dello spessore necessario per dirci qualcosa, qualcosa di significante, di profondo. Per cercare la profondità, appunto, bisogna compiere un viaggio, un viaggio che a volte è un viaggio contorto, difficile, elaborato. Questo tema, se l'autore se lo butta là, non ci dice niente, è una cosa che potremmo fare ognuno di noi, insomma, no? Inventarci un motivetto. Ma dove vediamo la mano dell'artista, del musicista, e com'è? Questo motivetto semplice lo sa elaborare, lo sa modificare, lo sa scavare all'interno di questo motivetto, insomma. E sa farne una creazione, ma senza perdere la bellezza di quel motivetto iniziale. E quindi ritornare alla fine a offrirci questo motivo, ma allora palpitante, perché ha fatto l'esperienza della vita, delle trasformazioni. A volte anche si è avvicinato alla sua morte. Sembrava spegnersi, poi rinasce. E solo allora acquista la sua bellezza, la sua profondità e la semplicità, che è una delle caratteristiche anche di questa bellezza. La semplicità non è mai, allora solo semplicismo, soltanto, ma è qualcosa che ha in sé, invece, e che ha dietro le spalle, la vita, la conoscenza, il viaggio e anche la sofferenza, il dolore, insomma, tutte quelle cose che poi connotano una vita e connotano anche la sua capacità di non lasciarsi schiacciare in questo percorso che ha fatto, ma di risalire, di ritornare a trovare se stessi dopo che si era rischiato di perdersi. Quello che abbiamo, quello che rimane, allora quello è un qualcosa, è un distillato, è un filtrato. Semplice sì, ma altamente significante, non semplicistico.